Anche quest'anno un'ottantina di alunni delle scuole elementari classi quarte di Cartoceto hanno partecipato all'iniziativa che ogni anno la sezione di protezione civile comunale allestisce per mostrare ai bambini che cosa accade in caso di calamità naturale. Quindi anche questo progetto io ritengo che sia tanto strategico quanto ambizioso. Hanno coinvolto giustamente tutti i ragazzi, tutti gli alunni della scuola e dell'istituto Marco Polo proprio per far sì di renderli soggetti attivi quindi di una protezione civile, di una formazione, di un'informazione, di un aggregamento, di un sociale dove a ruota praticamente coinvolgeranno il proprio nucleo familiare quindi tutto il sociale. Nel parco di Lucrezia i bambini hanno modo di conoscere e toccare con mano tutti i protagonisti che entrano in campo durante una calamità naturale. Vigili del fuoco, croce rossa, unitanti incendio, forze dell'ordine militari dalle otto di questa mattina hanno coinvolto i bambini mostrando cosa ognuno di loro fa in caso di terremoto e come è stato recentemente proprio nelle Marche naturalmente non potevano mancare i padroni di campo. La protezione civile locale e delle Marche assieme alle unità cinofile di ricerca e soccorso del CB Club Mattei. Noi come regione da anni stiamo visitando tutte le scuole, adesso da un paio d'anni è partito un progetto Io non rischio scuola per entrare proprio a gamba tessa ma per il lato positivo del gesto nelle scuole perché poi il Dipartimento Nazionale ha messo in piedi un protocollo con il Ministero, il MIUR, perché da quest'anno non riusciamo ma dall'anno prossimo la protezione civile diventerà materia di studio. Iniziare da subito a far capire quali sono le cose da fare e da non fare è importante e determinante. Sì, è importante ed è importante non solo da parte dei volontari di cercare di far capire cosa fare e cosa non fare in caso di un sisma come oggi ma è importante che comunque sia, siano molti professionisti anche a spiegarlo ed è importante per i bambini far passare il messaggio giusto. I bambini poi dopo aver fatto tappa nelle varie postazioni, la più gettonata delle quali come sempre quella dell'esercito del reggimento Pavia di Pesaro che ha portato un lince blindato protagonista delle missioni di pace in Afghanistan ed in Libia, alle 11 hanno visto mettersi in moto la catena dei soccorsi. Dall'attivazione del 112 fino ai soccorsi ed il ritrovamento di due volontari che figuravano dei feriti sotto le macerie e di loro naturalmente salvataggio. La funzione primaria di questa demo è trasmettere ai giovani per coinvolgere a catena le famiglie sulla strada della prevenzione dei rischi. Sicuramente sono felicissima di aver trovato questa iniziativa che trovo lodevole, che quindi voglio portare avanti. Credo in questa collaborazione fattiva con la protezione civile e quindi mi auguro che sia ancora più proficua nei prossimi anni.